poi poi allora io inizio a scrivere intanto a mettere intanto un identificatore di questo poi per forza e lo chiamo come al solito id quindi un nome c'è sicuramente un nome che rappresenta questo poi id e nome poi quello che secondo me è necessario mettere è una descrizione e poi siccome bisogna raggiungere questo luogo allora bisogna anche inserire l'indirizzo sicuramente non c'è bisogno di riportare nell'indirizzo né la città né la provincia perché è quella città lì quindi serve solo la via numero civico cioè se volete ecco possiamo per una volta tanto utilizzare un attributo composto così utilizziamo anche questo che mette in evidenza quali sono i componenti di questo indirizzo bene poi voi avete aggiunto qualcos'altro costo di ingresso allora il costo di ingresso in realtà non se non dovrebbe servire perché con l'acquisto del biglietto e tutti paghi l'ingresso in qualunque poi serve se devi pagare l'ingresso in tutti i posti dove vai ti viene fuori una cifra non indifferente l'orario di apertura beh sì questo potrebbe essere interessante l'orario l'orario di apertura tutto quello che dite giustissimo rimane però il fatto che su questo tablet non è previsto che ci sia una una pagina vedete con tutte queste informazioni perché nella pagina multimediale c'è un video di presentazione breve è un massimo di tre immagini il che non significa che noi non possiamo abbiarlo è però intanto iniziamo a realizzare quelle che sono le richieste del dei requisiti i requisiti poi possiamo ampliare ma non troppo perché se state facendo un tema d'esame e ampliate troppo poi vi andate a creare solo problemi piuttosto io farei un'altra cosa io nella descrizione metterei un link al sito dove si possono trovare ulteriori informazioni piuttosto di andare a mettere tutte queste questi dati nel database metterei un link al sito il video le foto non possono essere attributi del poi perché sono quanti video ci sono associati al poi sarebbero attributi multivalore e quindi in ogni caso poi bisogna trasformarli in un'entità ci fosse solo un video solo un'immagine allora si potrebbero mettere come attributi va bene quasi potrebbero aggiungere ancora altre cose lo lascerei pulito così poi poi potete aggiungerci quello che volete l'unica cosa che mi sembra mi sembra un po utile che potrebbe essere effettivamente utile per quello che viene anche dopo sono le coordinate geografiche però sono due le coordinate geografiche una è la longitudine l'altra è la latitudine però lasciamolo un attimo in sospeso vediamo se poi effettivamente necessario e come vi ho già detto prima io vado quando il mio documento scrivo verificare se servono le coordinate geografiche era il poi bene allora andiamo avanti il poi più o meno l'abbiamo abbozzato poi tanto questi progetti hanno bisogno di una revisione continua quindi non è che alla prima passata li facciamo perfetti torniamo al documento però ecco non è una richiesta che ci è stata fatta quindi sono tutte idee che vengono però poi ripeto lavoriamo sempre con nell'ottica minimalista cioè meno facciamo meglio è adesso andando avanti abbiamo questi contenuti multimediali quindi le pagine potrebbero essere già tutte pronte che potrebbe anche essere una soluzione l'altra soluzione invece quella di avere una pagina che non è già pronta ma che viene costruita in maniera dinamica non appena l'utente si avvicina al poi sono due tecniche diverse la prima è una tecnica più tradizionale non dove che non è sbagliata e attenzione una tecnica più tradizionale dove appunto appena mi avvicino al poi viene caricata tutta la pagina l'altra una tecnica più meno tradizionale dove appena mi avvicino al poi vengono carica richiesti al server i dati da caricare nella pagina questo è da decidere questo fa parte della poi delle specifiche di implementazione però è importante saperlo già anche quando si fa la progettazione del database però andiamo avanti se le pagine web sono già pronte cioè sono statiche ecco che possiamo collegare a ogni poi le pagine che presenta qua possiamo vedere appunto che ogni pagina web ha un suo identificatore univoco ha un uri cioè il percorso che ci permette di andare a recuperare questa pagina sul web server e poi anche un tipo per specificare se si tratta di pagina base o pagina avanzata dobbiamo fare un'ulteriore distinzione dipende da come è realizzato il video sappiamo che le pagine base hanno un video in italiano con sottotitoli in inglese e poi nelle pagine avanzate invece c'è un video con la possibilità di scegliere la lingua ci sono sette diverse lingue sono andata a fare un po di ricerca su internet perché non sono un'esperta e ho visto che effettivamente è possibile come anche era presumibile realizzare uno stesso video con però delle tracce audio differenti quindi in lingue diverse dobbiamo quindi distinguere in base a questo allora se abbiamo per quanto riguarda le pagine avanzate un unico video con tracce audio diverse allora dato un poi questo avrà da 1 n pagine web associate dove questo n in realtà è un 2 perché ci sono solo due pagine una base un'avanzata mentre data una certa pagina web questa è relativa a uno ed un solo poi diversamente se noi pensiamo di realizzare tante pagine avanzate una per ogni lingua quindi con un video che non ha una delle tracce audio differenziate allora qui questo n non sarà più due ma lì poi avrà associato da 1 a n pagine dove questo n diventa 6 anzi più di 7 perché in realtà c'è anche la pagina web di base quindi da 1 a 8 pagina web associate ora qua lasciamo n però ecco bisogna essere consapevoli di questa cardinalità massima in questo caso dobbiamo anche fare la distinzione sempre tra video con audio multitraccia o video con audio con una sola traccia allora se il video a audio multitraccia possiamo collegare la risorsa video al poi specificando un identificatore univoco e la durata dove la durata può essere espressa in minuti sappiamo che ci sono due durate una minima una massima oppure si può anche utilizzare un attributo di tipo numerazione che può avere come valori video breve video lungo questo è un dettaglio che poi su quale si può ragionare successivamente quindi ogni poi avrà associato da 1 a n video dove in realtà questo n 2 perché abbiamo un video breve o un video lungo e poi ogni video è relativo ad uno ed un solo poi anche per il video sarà necessario specificare un ulteriore attributo che contiene l'uri della risorsa ossia quella percorso che consente di andare a recuperare il video ovunque esso si trovi se invece non abbiamo dei video con multitraccia audio allora avremo un video per ogni lingua per cui si potrebbe rappresentare la situazione in questo modo con un'entità video collegata al poi sempre con le stesse cardinalità l'id e l'uri e poi non c'è bisogno di specificare la durata perché abbiamo resa esplicita con questa gerarchia dove abbiamo video corto e video lungo che ha in più l'attributo lingua questa è una gerarchia totale ed esclusiva tuttavia possiamo notare che si potrebbe già immediatamente risolvere questa gerarchia eliminando l'entità figlie e mantenendo solo l'entità genitore vediamo come diventa appunto il diagramma nel caso in cui procedessimo in questo modo se eliminiamo la gerarchia avremo quindi un attributo durata che specifica il tipo di video e poi l'attributo lingua che diventa opzionale perché è relativo solo ai video di lunga durata le cardinalità rimangono sempre le stesse ma ovviamente questo n c'è la cardinalità massima lato poi non sarà più due ma sarà uguale come avevamo già visto in precedenza a otto abbiamo le immagini relative al poi con relativa di da scalini italiano in inglese oppure 20 immagini con la descrizione se abbiamo scelto di considerare le pagine web già pronte quindi statiche e le immagini sono già incluse anche le didascalie quindi non c'è bisogno di memorizzare alcunché all'interno del database in tutti gli altri casi è necessario avere un'entità immagine con almeno un identificatore univoco e un attributo didascalia che io ho inserito come appunto come attributo di immagine perché ogni immagine ha al più una didascalia è vero che in due lingue italiano e inglese però comunque una didascalia e oltretutto opzionale perché nel caso in cui utilizzino immagini con una descrizione non è detto che queste immagini abbiano anche una didascalia tra il poi e l'immagine esiste un'associazione di tipo 1 molti dove ogni immagine è relativa ad uno di un solo poi mentre un poi può avere collegate più immagini se l'immagine però viene inserita all'interno di una pagina web avanzata allora questa immagine avrà anche una descrizione associata e oltretutto questa descrizione potrà essere in lingue diverse quindi andiamo a rappresentare questa situazione quindi la descrizione è un'entità con un suo id e la lingua ed è associata all'immagine con questa associazione descrive una descrizione è relativa ad una o ad una sola immagine mentre un'immagine può avere da 0 a n descrizioni perché è possibile che un'immagine non abbia descrizioni in quanto ha solo la didascalia infine siccome la descrizione e l'immagine sono collocate da qualche parte sul server indichiamo anche quello che è l'uri cioè il percorso che occorre compiere per raggiungere questi asset per concludere vediamo quindi i due schemi principali realizzati il primo a sinistra è quello che prevede di utilizzare pagine web statiche già pronte quindi non è necessario andare a memorizzare nel database i vari asset che devono essere impiegati per creare la pagina a destra vediamo invece una situazione diversa che prevede di utilizzare delle pagine che vengono create dinamicamente e quindi non è necessario memorizzare la pagina nel database ma invece occorre memorizzare tutti i vari asset che la compongono quindi le immagini e i video e descrizioni di lascarie eccetera eccetera poi vedremo nel seguito come procedere con la prossima lezione a inserire anche vari altri elementi che servono per risolvere il tema proposto a presto